Ben trovati. È innegabile che la giornata di giovedì abbia segnato qui a Montecitorio un cambiamento. Abbiamo approvato il bilancio interno che avevamo annunciato già nelle scorse settimane e per la prima volta nella storia di questa Repubblica la Camera ha fatto risparmiare alle casse dello Stato 138 milioni di euro in due anni. Ecco, è un risparmio importante, un risparmio al quale si è arrivati sommando più voci. Da una parte c'è la minore dotazione chiesta da Montecitorio allo Stato, cioè 50 milioni di euro in meno nel 2014 e altrettanti nel 2013, l'anno prima. E dall'altra ci sono i risparmi attraverso cui si è riusciti a restituire 10 milioni nel 2013 e oltre 28 nel 2014. Ma quella di giovedì è stata una giornata importante anche per un'altra ragione. Per la prima volta Camera e Senato hanno deciso di introdurre un tetto massimo alle retribuzioni. Questo in analogia con quanto è stato già deciso dal Governo per le altre amministrazioni pubbliche. Ecco, date le diverse professionalità che operano poi all'interno del Parlamento, chiaramente è stato necessario introdurre una serie di ulteriori tetti, uno per ciascuna categoria di dipendenti. Insieme con i colleghi dell'Ufficio di Presidenza abbiamo ritenuto questi interventi doverosi, vista l'attuale difficile situazione economica del Paese in cui purtroppo intere fasce di popolazione sono rimaste senza reti di protezione sociale. Questa realtà chiama in causa tutti. Voglio però chiarire ancora una volta un punto. Le misure che ci accingiamo ad adottare non devono essere interpretate come un disconoscimento dell'alto livello di competenza da parte del personale della Camera. In questo anno e quattro mesi di Presidenza ho avuto modo di apprezzarne la dedizione, la professionalità e la lealtà istituzionale. Questo nello svolgimento sempre imparziale del proprio lavoro al servizio dell'istituzione e quindi al servizio dei cittadini. Puntiamo con questa riforma invece, attraverso queste misure, ad arrivare a un ruolo unico dei dipendenti di Camera e Senato. Insomma, una riforma complessiva che certo richiede sforzi ma che ha un unico ambizioso obiettivo, rafforzare il Parlamento, ovvero la massima espressione democratica del nostro Paese. Vi ringrazio.